Per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, l'amministrazione comunale di Parre ha promosso un concerto. Di cosa si tratta e quando si terrà? Sì, diciamo, questo è uno degli eventi in scaletta per il palinsesto estivo e sarà uno degli ultimi appuntamenti che l'amministrazione comunale ha voluto curare. Questo concerto lirico, appunto come ricordavi, per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, si terrà venerdì 16 agosto alle ore 21. presso la nuova struttura dell'oratorio di Parre. L'ingresso è libero, quindi chiunque può, chiaramente, e saremo ben lieti di ospitarlo. Un concerto comunque che si presenta di spessore, visto comunque i protagonisti, il tenore di casa, Roberto Palamini, la soprano Sonia Lubrini. Poi abbiamo un accompagnamento maestro pianoforte, che è il Samuele Pala, e il maestro violinista, che è Paolo Artina. Sarà impostato, chiaramente, la prima parte su delle, diciamo, delle opere liriche, di brani di opera lirica, tratti dal Rigoletto e dalla Traviata, mentre la seconda parte, un po' più leggera, su dei sonetti e dei duetti, sempre sulle aree verdiane, comunque. C'è un altro evento culturale organizzato dall'amministrazione comunale in corso in questi giorni a Parre? Sì, diciamo che è stata organizzata questa mostra, che si tiene appunto dal 4 al 24 di agosto, presso la sala museale di Parre. E' stata ospitata questa mostra, perché comunque, diciamo, come contorno al nostro, diciamo, momento, diciamo, importante di espressione culturale, che è l'estemporanea di pittura, che ha avuto anche quest'anno notevole successo, ci piace avere comunque questo contorno e ospitare comunque qualche artista che comunque ci viene segnalato. In modo particolare, questa mostra di Antonio Cagliafa, che si distingue sia per la tecnica, diciamo, utilizzata, che non è una tecnica classica, quindi è comunque da vedere, c'è anche dietro, diciamo, un progetto, diciamo, socio-umanitario, perché questi artisti fanno parte di una rosa di artisti i quali, diciamo, devolvono l'eventuale o una parte di questi ricavati per creare, appunto, queste case e comunità, visto che comunque tutti hanno questa sensibilità comune, che è quella di dare una comunità, una casa famiglia ai diversamente abili, per il dopo di noi, cioè quindi quando comunque la famiglia non potrà più prendersi cura di queste persone. Quindi questo è uno di quegli artisti che ha comunque una partnership internazionale, perché comunque espone le proprie opere a Monte Carlo, piuttosto che dove stanno nascendo proprio queste joint venture, proprio per dare spazio e quindi poter riuscire in questo intento.